Bianca Iengo, responsabile di Ocesana della Farmacia Solidale, stasera qui a Palazzo Baronale, un importante riconoscimento per il tuo impegno nel sociale. Sì, ringrazio di cuore il sindaco Giovanni Palomba per questo riconoscimento che ha voluto conferirmi. Davvero è un'emozione, l'emozione è grande perché mi trovo, come dicevo prima, sono in casa mia, cioè nella mia terra, nel mio territorio, tra la mia gente, che amo e quello che faccio veramente perché per amore, veramente di chi è in difficoltà e chi magari stenta e pertanto c'è bisogno di una mano. Per questo sento che la solidarietà è un impegno innanzitutto sociale, oltre che da cristiani. Quindi seguiamo un esempio più grande di qualcuno che ci dice di realizzare il bene, che significa aiutarci gli uni gli altri. E quindi questo mi rende ovviamente felice di poterlo fare. Che cosa fa la farmacia solidale? La farmacia solidale nasce dal desiderio di voler essere una realtà che in maniera adeguata e qualificata dà una risposta a chi non riesce ad accedere alle cure per motivi soprattutto economici. E quindi distribuisce gratuitamente ciò che gratuitamente riceve, quindi ausili, presidi, farmaci, prodotti per bambini, appunto latti, emogenizzati, tutto quello che si può. Nessuno può restare da solo. E allora cambiare anche il nostro stile di vita, sapendo condividere anche il poco che abbiamo, questo rende meno difficile la vita agli altri e rende migliori anche un pochettino noi. Il suo operato si svolge a Napoli, in provincia? E su tutto il territorio diocesano, quindi Napoli e provincia. Anche se ubicata a Napoli, a Via Vergini 51, la sede centrale della farmacia solidale, si smista tutto il servizio sulla diocesi, sul territorio diocesano. E anche interdiocesano, perché anche da altre diocesi giungono fratelli che hanno bisogno. In effetti cerchiamo di esserci, di essere gocce di carità, come è chiamato il presidio, per essere un po' di sollievo a chi ha bisogno. Chi volesse accedere a questa realtà, chi volesse dare il suo contributo come volontario, come deve fare? Allora, come volontario ci rende innanzitutto pieni di gioia, perché abbiamo bisogno di tanti volontari. C'è bisogno di gente che sa ascoltare, sa accogliere e soprattutto sa donare un po' del suo tempo e della sua disponibilità. Quindi sul sito della dioce si sono presenti i numeri di telefono di riferimento, nonché la mia mail a cui si può scrivere la propria disponibilità, oppure venire direttamente il mercoledì o il venerdì pomeriggio dalle 16 alle 20 in Via Vergini 51, nel complesso dei padri missionari vincenziani. E lì appunto con un colloquio ovviamente si esprime la propria disponibilità e si comincia insieme. Bianca è una persona di Torre del Greco, nel sociale da tantissimo, lei appartiene alla parrocchia di Don Mario Pasqua e con la farmacia solidale lei è vicino a tutti gli ultimi, a tutti coloro che praticamente hanno bisogno di farmaci. Ma Bianca non è solo questo. Bianca io ricordo nel periodo del Covid dove lei mi chiamava in quello che era il centro operativo e cercava di dire a Sindri che posso fare, che cosa dobbiamo organizzare. E lei organizzava di tutto, cercava di essere vicino nel modo più semplice possibile. È una persona che praticamente vive per gli altri, vive con le persone che praticamente, nemmeno che chiedono, è lei che li guarda negli occhi, capisce, comprende e gli è vicino. Lei è un punto di riferimento, è quello che fa e quello che gli è riconosciuto da tante famiglie, da tante persone.